Gli onori militari alla bandiera d'istituto della Scuola Militare Aeronautica Giulio II, che si inserisce nello schieramento. Reparto A, presentato, A. Onori alla bandiera d'istituto della Scuola Militare Aeronautica Giulio II. Grazie a tutti. 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 Bandiera d'istituto. Banda, reparto di formazione in armi pronto per la rassegna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Reparto di formazione in armi pronto per la rassegna. Reparto di formazione in armi pronto per la rassegna. Reparto di formazione in armi pronto per la rassegna. Reparto di formazione in armi pronto per la rassegna. Grazie a tutti. 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 Il primo corso si porta in posizione d'onore per il giuramento. Reparto a posto per il giuramento. Reparto, riposo. Il comandante della Scuola Militare Aeronautica, Giulio Due, colonnello Massimiliano Macioce, pronuncia il suo discorso al termine del quale seguirà la lettura della formula di giuramento. Signor Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale Luca Goretti, a nome della Scuola Militare Aeronautica, Giulio Due, le porgo un caloroso bentornato. La sua presenza conferisce un significato ancora più solenne alla cerimonia odierna. Saluto e ringrazio il signor Sindaco della città di Firenze, dottor Lardella, per aver consentito che la cerimonia odierna fosse celebrata in questo splendido scenario, che è piazza della Signoria, simbolo di Firenze, città testimone della nostra storia umanistica, ambasciatrice di bellezza nel mondo e madre della nostra lingua natia. Esprimo gratitudine al Comandante delle Scuole dell'Aeronautica Militare, generale Frigerio, e al Comandante dell'Istituto di Scienze Militare e Aeronautiche, generale Floreani, per la vostra costante guida e il prezioso supporto fornito giornalmente. Ringrazio tutte le autorità, civili e religiose, e i rappresentanti del Comune di Firenze, sempre collaborativi nelle nostre attività, e gli ex allievi della Due e tutti i gentili ospiti qui presenti. La vostra partecipazione dà lustro a questa cerimonia. Porgo un deferente e rispettoso omaggio alla bandiera di Istituto della Scuola 2, simbolo di onore, valore e professionalità, e al gonfalone della città di Firenze, città che da oltre 17 anni, con benevolenza e affetto materno, accoglie i nostri allievi. Un rispettoso seguo ai gonfaloni della Regione Toscana e della città metropolitana di Firenze, ai labari delle associazioni combattentistiche e d'arma, testimoni attivi dell'indissolubile legame che unisce tutte le generazioni di uomini e donne al servizio del Paese. Rendo omaggio a tutti i caduti che hanno dedicato la loro vita al servizio del Paese e che si sono immolati nell'assorbimento delle loro missioni. Saluto inoltre gli organi di stampa che seguono con costanza e interesse tutte le attività della scuola. Ai nostri chiarissimi docenti va l'incondizionata fiducia e riconoscenza per aver adottato uno stile educativo perfettamente in linea con i principi fondanti della scuola. Il mio applauso va alla vostra capacità di armonizzare gli impegni extracurricolari e al contempo tenere alto il rendimento degli allievi nelle attività di indirizzo attraverso una didattica assolutamente qualificata e rigorosa. Mi compiaccio vivamente per la vostra dedizione al servizio. Un pensiero speciale va a voi familiari per aver cresciuto ed educato questi giovani talenti qui fieramente schierati e di averli sapientemente orientati nelle loro scelte. Grazie. Vi garantisco il massimo impegno personale e di tutta la scuola per potenziare e valorizzare ancora di più le loro capacità, le loro abilità e le loro competenze nel solco educativo già tracciato da voi genitori. In qualità di comandante oggi ho l'onore di rappresentare la scuola militare aeronautica Giulio II per la solenne cerimonia di giuramento che avviene nella lieta ricorrenza delle celebrazioni del centenario dell'aeronautica militare. Questi 36 ragazzi e ragazze qui oggi presenti solo nove mesi fa hanno varcato il cancello della scuola scegliendo di abbandonare la vita domestica e le comodità ad essa associate con l'auspicio di ambire a una formazione superiore. Formazione che non si esaurisce solo sui banchi di scuola ma continua nelle molteplici e complesse attività educative e formative nelle quali sono giornalmente impegnati. Mi rivolgo proprio a voi, cari allievi del primo corso. La cerimonia di giuramento è un evento solenne dove vi apprestate in modo volontario e convinto a giurare fedeltà alla patria e alle sue libere istituzioni abbracciando consapevolmente il sistema democratico in cui si attuano i valori e i principi della Costituzione della Repubblica Italiana. Siate fieri di appartenere a un popolo, quello italiano, libero e rispettoso delle altrui libertà. Siate orgogliosi di indossare le stellette e di far parte delle forze armate che sono apprezzate, rispettate ed amate tanto in Italia quanto al di fuori dei confini nazionali. Rammentate per sempre questo momento, celebratelo ogni giorno, poiché i sacrifici che avete fatto per giungere a questo momento vi aiuteranno ad affrontare i piccoli e grandi impegni della giornata e della vostra vita, ovunque il destino vi condurrà, in uniforme oppure nei diversi ambiti e impieghi civili, ricordando che nulla è impossibile per un cuore determinato. Grazie al vostro entusiasmo e alla vostra preparazione vi apprestate a diventare dei cittadini consapevoli, rispettosi delle leggi dello Stato e pronti ad onorare l'Italia con la vostra opera, i vostri principi etici e la vostra onestà. Lo spirito di coesione e di collaborazione che avete maturato in questi mesi vi aiuteranno a meglio servire la collettività domani. Questi sono i valori che la Scuola 2 vuole infondere nella vostra mente e nel vostro cuore. Siate di esempio in ogni vostra azione e ricordate sempre che prima di aspirare o pretendere i vostri legittimi diritti dovete aver adempiuto a tutti i vostri doveri, di allievi, di militari e di cittadini. Non fatevi attrarre da facili scorciatoie e non fatevi ingannare da banali interessi, avendo sempre a mente il bene più prezioso, la patria. Con il battesimo che vi apprestate a ricevere oggi non sarete più chiamati il primo corso, ma sarete a pieno titolo il corso Urza. Al vostro nome sarà associato un gagliardetto ed un motto che voi stessi avete ideato e che qualificheranno per sempre voi e tutti i prossimi corsi Urza. Siate fieri di appartenere al vostro corso e alla Scuola 2 e fate tesoro della vicinanza del vostro padrino, il colonnello Gennaro di Napoli, che ringrazio per aver accettato con vivissimo entusiasmo l'impegno di diventare la vostra guida sia durante il percorso formativo nella scuola sia dopo il diploma. Cari allievi, siate da oggi ambasciatori di sani principi, di altruismo, di gentilezza, di lealtà verso voi stessi e il vostro amato Paese. È il vostro comandante che ve lo chiede davanti al nostro amato Tricolore. Viva la Scuola Militare Giulio II, viva l'Aeronautica Militare, viva l'Italia! Do ora lettura della formula del giuramento. Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato, per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Allievi del Corso Ursa, lo giurate voi? Allievi del Corso Ursa! Sperazione La Costituzione e le Heatare Giulio II, potere i sostanzi e il vostro amato Tricolore sia il vostro amato Tricolore. E viva l'Aeronautica Militare Giulio II, di Nadia Karubadia Giulio II, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.